Ciao a tutti, come fargli perdere la testa rapidamente? Se vuoi far perdere la testa rapidamente ad una donna o ad un uomo, devi destrutturare la sua parte logico-razionale, perché la parte logico-razionale, la parte cognitiva, quella che pensa, non vuole perdere ovviamente la testa, vuole mantenere il controllo della situazione, mentre la sfera emozionale invece non vede l'ora di perdere la testa, per prendere il controllo della situazione. Quindi noi abbiamo dentro una parte che non vede l'ora di innamorarsi, non vede l'ora di coinvolgersi, e coinvolgersi proprio col bastardo selezionato, con la bastarda, tra virgolette, selezionata. E' una parte che non vede l'ora di fare una sorta di concorso a livello nazionale, per cui tutti i bravi ragazzi, tutte le brave ragazze sotto casa, le escludi. Perché non ti danno quella trasgressione? Ecco, tutte le persone che hanno voglia di trasgressione, e quindi sono tante, si coinvolgono tantissimo quando trovano la persona che, quando trovano la persona che non dà quel quid emozionale di cui abbiamo, che dà, quel quid emozionale di cui abbiamo bisogno. E la figura, lo stronzo o la stronza sono le figure ideali. Quindi, ovviamente non devi farlo eccessivamente, perché c'è sempre un'altra parte che si lega. Per cui, come dire, devi erogare, se vuoi far perdere la testa rapidamente, delle polpette avvelenate, senza che l'altra persona si ne accorga. Insomma, devi travestirti da nonna, da nonna, ma dentro devi essere il lupo cattivo per conquistare. Quindi, devi subito capire quali sono, quali sono le parti dell'altra persona, i punti deboli dell'altra persona, quali sono le parti dell'altra persona che a livello emotivo danno dei, diciamo, dei turbamenti, delle emozioni compresse. Devi capirlo rapidamente. Ognuno di noi ha delle situazioni in cui vive comunque una tensione, diciamo, emozionale, non completamente soddisfatta. E sono di due categorie, due classi fondamentalmente. Sono la rabbia compressa, quindi, rabbia compressa dove significa? Rabbia compressa che quella che a suo tempo hanno compreso le persone care. Perché è la persona cara che ti comprime la rabbia. Non è una persona non cara, fondamentalmente, una perché, come dire, se ti fa incazzare il figlio del portiere, prendi e lo mandi a cagare. Non è quello il problema. E invece, se ti fa incazzare la persona a cui tu tieni, è difficile mandarlo a cagare. Soprattutto se è una persona che, in qualche modo, ti è una persona cara che può farti vivere senza di colpa. Quindi ti comprime la rabbia. E questa rabbia compressa dentro, diciamo, se tu la riesci a pilotare verso un coinvolgimento, coinvolge, seduce. Lo stesso discorso per l'emozione, le emozioni compressa. Quindi è ovvio che tu, quando devi interagire con una persona, devi prima, per sedurre molto rapidamente, far perdere la testa molto rapidamente, conquistare la sfera logico-razionale, che è il passaggio. Quindi entrare anche come amico, non importa. Molti dicono, ah, l'amico non va bene, no, l'amico va benissimo, è una fase iniziale, l'amico va benissimo. E quindi utilizza tutte le strategie della PNL, quindi dal ricalco e guida. Devi capire rapidamente, ad esempio, in questa prima fase, ricalcare i movimenti del suo corpo. Ricalcare vuol dire copiare, duplicare la fisiologia, la postura, in modo tale che ti veda come simile e quindi non mette in atto le difese. Questo puoi anche attuarlo utilizzando le strategie della PNL e dei canali comunicativi, canali comunicativi, visivo di ocenestesico, capire quello prevalentemente usato dalla persona, cioè che se si usa l'altra persona, tu devi duplicare. Poi, una volta che hai fatto questo, che cosa devi fare? Devi andare invece a generare della rabbia. Generare della rabbia perché a quel punto lì, quel po' di potenziale che hai, e la rabbia fa a fare delle piccole incazzature, no? E come fai? Quindi, beh, non lo so, ad esempio dai degli appuntamenti e dai buca. Insomma, fai incazzare un pochettino, vai a denigrare un po' l'altra persona, vai a, come dire, a mettere in atto dei comportamenti sempre in modo graduale calibrato, perché l'importanza è del modo graduale, perché se tu lo fai molto rapidamente, cioè la persona può cortocircuitarti e quindi reagire, no? E allora se esprime la rabbia non c'è più emozione, perché quello che poi seduce è l'emozione che riesce a comprimergli. E quindi quello che devi fare è gradualmente, diciamo, non so, una volta una buca, una volta vai a denigrare un po', diciamo, certo che tu non capisci proprio un cazzo, soprattutto se avete già una relazione, diciamo, sessuale, la cosa più facile è abbassare, diciamo così, l'autostima, farlo sentire un po' inadeguato, inadeguata da un punto di vista sessuale, magari non direttamente, gradualmente però. insomma, gli parli ad esempio del fatto che magari si dice, no, ma sessualmente secondo me non siamo compatibili perché io ero abituato diversamente o io ero abituato diversamente, quindi questo vale sia per l'uno che per l'altro, sì, perché poi le persone proiettano, quindi se per caso questa persona qua non si sente sessualmente, diciamo così, al cento per cento, in questo modo gliel'amplifica, uno dice, ma se l'amplifica dovrebbe fuggire, invece no, invece si coinvolge perché, per quale motivo si coinvolge? Si coinvolge perché tu vai a ricarcare esattamente le stesse emozioni che hanno costituito il suo imprinting, in questo caso il senso di inadeguatezza, il senso di non sentirsi completamente, completamente a suo agio, diciamo, sentirsi magari rifiutato, sentirsi la persona sbagliata, questo è fondamentale, perché se tu fai questo, fai subito perdere la testa, e questo lo puoi capire molto rapidamente, nell'ambito di una relazione, se non vuoi arrivare alla parte sessuale perché è qualcosa di molto rapido, è il rifiuto, un'altra cosa che genera rapidamente emotività, rifiutare vuol dire, preferisco un'altra persona a te, è ovvio che se poi queste iniziano a inseguirti, è ancora meglio, perché tu puoi mettere subito i vinc, cioè mi spiace, o ben se non posso, perché devo andare già con un tizio, con un caio, con un'altra persona, questo è quello che devi imparare a fare, se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, se vuoi ottenere dei risultati, da un punto di vista, diciamo così, affettivo, da un punto di vista sentimentale, e il risultato è che otterrai molto rapidamente, quindi si tratta di amplificare quelle che si chiamano emozioni compresse dall'altra persona, e il modo migliore, ripeto, è generare un po' di incazzature in modo graduale, cioè andando a frustrare quelle che sono le aspettative, qualunque siano le aspettative di quella persona, qualunque siano, perché l'aspettativa che a livello logico è se una persona a livello logico vuole essere, diciamo, che ne so, accettata, e gli ruga il fatto che non sia accettata, quindi che venga rifiutata, è perché a livello emotivo tenderà a nutrirsi del rifiuto. Ricordati sempre questo, che ciò che si vuole tantissimo a livello razionale, perché a livello emotivo non si vuole, si vuole il contrario. E quindi la parte logica cerca in qualche modo di far dare il contrario. Questo puoi capirlo abbastanza rapidamente, ad esempio dal tipo di comunicazione non verbale. Dalla prossemica, ad esempio, cioè tu quando vai con una persona inizia a dare le spalle, ti avvicini, dai le spalle, considera un altro e con la corda dell'occhio presta attenzione ai segnali non verbali che ti dà a questa persona. Se per caso ti dà un segnale di gradimento, vatti a vedere negli altri video che ho fatto quali sono i segnali di gradimento, ne ho fatti diversi in cui parlo, e vuol dire che, certo, darti le spalle vuol dire che è il rifiuto, quello che è. Alle volte la persona proprio ti segue e quindi tu ti giri e vedi che l'altra persona in qualche modo ti segue, quindi vuol dire che si aggancia moltissimo, oltre che il suo rifiuto ha bisogno proprio di inseguire, quindi se hai bisogno di inseguire, di fare il gatto che rincorre, tu dovrai ricoprire il ruolo del topo che fugge. In questo modo andrai rapidamente a destrutturare la sfera emotiva e quindi andrai rapidamente a generare quel quid tensionale per cui la persona tenderà a coinvolgersi, tenderà rapidamente a coinvolgersi e a innamorarsi, anche se l'innamoramento avviene proprio quindi su una penalizzazione. Quindi è molto importante riuscire a controllare, governare questa emotività delle altre persone perché è la via regia di accesso alla felicità, se vogliamo dire, oppure la via regia di accesso a successo in tutti gli ambiti della nostra vita, non soltanto nelle relazioni sentimentali affettive ma anche nelle relazioni sessuali, nelle relazioni con le amicizie, nelle relazioni lavorative, nelle relazioni con la famiglia d'origine, i fratelli, i genitori o con la famiglia acquisita, con i figli, insomma, quindi è veramente fondamentale. Bene, per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti al canale, di iscriverti ai tuoi amici e per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!